benvenuti in alla radice delle dipendenze affettive in famiglia in coppia e nei gruppi un podcast della psicanalista laura pigozzi www.laurapigozzi.it in questa puntata vi parlerò di un argomento abbastanza spinoso che è il figlio prediletto la cosa buffa del figlio prediletto è proprio che nessuno sa mai bene qual è la posizione che occupa nel cuore del genitore soprattutto se ci sono altri fratelli o altre sorelle allora il figlio prediletto ha una curiosa caratteristica è il più amato ma è anche il più odiato allora se è il maschio è molto facile che sia il preferito della madre però deve vedersela con la gelosia dei fratelli e del padre se è femmina è facile che sia la preferita del padre e deve vedersela con la gelosia dei fratelli e l'invidia della madre ora la questione del figlio prediletto il figlio prediletto in fondo non è tanto fortunato perché perché se è vero che il gruppo dei fratelli si confronta ed è il primo scambio di costruzione di una civiltà no nel senso che dalla dalla stanza dei giochi si comincia a fondare una civiltà si cominciano a tracciare dei confini tra me e l'altro dei limiti che sono invalicabili oppure se possono essere valicati cioè c'è una negoziazione la negoziazione nasce nella fratria eh quindi nasce nel gruppo dei fratelli ora se c'è un prediletto che è dichiaratamente prediletto voi capite che in lui si stronca ogni attitudine al confronto e alla lotta eh quindi non ha più questa prima grande palestra di formazione e allora questa sua dorata posizione si può trasformare in un eccessivo eh in un in un tranquillo in un tranquillissimo in un eccessivamente tranquillo limbo di inattività e a volte anche di pigrizia e quindi si può trasformare in un inferno perché la pigrizia è infernale eh i pigri vi ricordate Danti gli gli accidiosi li metteva nell'inferno e non avevano voce in capitolo quando aprivano bocca gli uscivano delle bolle eh l'inattività l'inedia fa diventare in un certo senso accidiosi e quindi non si ha più voce in capitolo su niente ma non perché l'altro ti toglie la voce ma perché proprio non hai più neanche la forza di parlare eh e sono gli unici gli unici diciamo abitanti dell'inferno di Dante che non prendono la parola non sanno dire di sé tutti quanti raccontano il loro peccato che è una forma no di racconto di una forma di analisi se vogliamo ma gli unici che non possono dire niente di sé sono proprio gli accidiosi e non è un caso che oggi pigrizia quindi acidia e alessitimia siano così tanto eh accomunate e diffuse allora eh quando stavo ragionando su questa questione del figlio prediletto eh erano i giorni in cui è venuta a mancare la regina Elisabetta quindi diciamo la storia della regina era su tutti i rotocalchi e allora hm è venuta fuori anche la storia del figlio preferito della regina Elisabetta e questo figlio preferito era Andrea però Andrea ha dovuto ha avuto delle accuse di abusi sessuali a una minorenne e questo ha portato la regina a eliminarlo da ogni incarico della vita pubblica relegandolo a una sorta di ignavia politica eh ora sul figlio eh preferito spesso si ripongono delle aspettative molto gravose e a volte anche lontane dai suoi sogni in questo modo noi vanifichiamo verso il figlio preferito che viene come dire utilizzato come vettore dei nostri sogni ma non dei suoi vanifichiamo l'unica eredità che possiamo lasciare cioè metterli in condizioni metterlo in condizione mettere condizioni un figlio di seguire il suo proprio desiderio un desiderio che non troveranno mai già è difficile trovarlo in condizioni più o meno normali la normalità non esiste ma più o meno buone ma se io carico il figlio del mio desiderio lui non troverà mai il suo perché è troppo impegnato a soddisfare il mio ora la psicologia americana che mette sigle su qualunque cosa ha inventato cioè una sigla perché dice ma no ma figlio prediletto non esiste ma esiste al punto che persino gli americani che sono dei pragmatici eh sono magari non sono proprio finissimi ma sono molto pragmatiche possono anche essere anche molto fini ma sono soprattutto pragmatici hanno inventato questa sigla sigla PDT cioè trattamento parentale differenziale e una università quella della California ha fatto un test su per capire chi era il primo genio cioè chi era appunto chi era il figlio prediletto nella statistica del loro campione era il primo genito perché perché il primo genito è colui che fa nascere la madre alla fine no perché è il primo genito che crea la madre e crea il padre è quello che crea i genitori tuttavia è vero che all'ilà di queste diciamo eh di queste statistiche su questi campioni poi sapete le statistiche bisogna anche capire bene come viene come vengono presi i campioni ragazzi possiamo dire che eh spesso ho notato quanto i genitori preferiscano i figli fragili cioè o meglio diciamo così genitori fragili preferiscono figli malleabili figli bisognosi quelli che saranno sempre figli che avranno sempre bisogno di loro ora qual è l'antidoto a questo a questo a questa diciamo un po' distruzione della della stanza dei giochi con il con la questione del figlio prediletto che c'è sempre che c'è sempre anche quando qualcuno dice no non è il mio figlio né lui non io non ho preferenze no ma lo sappiamo che c'è sempre allora è una cosa di cui vi parlerò anche più avanti quando affronteremo il discorso proprio dei fratelli voglio parlarvi tanto dei fratelli ho scritto un libro sulle sorelle ma è un libro che parla anche dei fratelli eh più l'asse orizzontale dei fratelli è forte ha un legame più questa debolezza dei genitori perché avere un figlio prediletto è una debolezza dei genitori è calmirata e in generale più la fratria è forte più i genitori sono tenuti in qualche modo ehm mi viene da dire a far meno danni sono calmirati anche i genitori invece una fratria debole litigiosa no che viene magari anche inconsapevolmente divisa dai genitori eh li impera la preferenza genitoriale e danneggia il senso di sé dei figli anche del preferito ora capita mi è capitato anche che eh di sentire di ascoltare dei figli che credevano di essere i meno preferiti e questi meno preferiti si sentivano addirittura in colpa perché non hanno soddisfatto i genitori ora voglio dire che soddisfare i genitori non è il compito dei figli allora il destino di un figlio che si sente meno preferito e che ho visto accadere più di una volta è quello di cercare chi non lo preferisce cioè chi non lo ama abbastanza o chi magari preferisce un'altra o un altro perché questo perché inconsciamente noi tendiamo a salvare i genitori e tendiamo a ripetere quello che abbiamo vissuto e quindi voglio chiudere con una nota personale io in casa ho una diciannovenne e una eh no ormai sono una ventenne ormai quando ho scritto questo pezzettino questa cosa che voglio dirvi erano ormai una ventenne una diciassettenne e la ventenne un giorno mi ha detto ah lo so che tu preferisci lei cioè l'altra perché l'hai comprato una borsettina di Prada quindi quest'altra era uscita con me ed è tornata con la borsettina di Prada ora in realtà io non ho comprato nessuna borsettina di Prada perché me ne guarderei anche bene in realtà cosa è successo che siamo andate in profumeria e la profume la profumiera ha regalato una borsettina di Prada di Prada alla ragazza ora io ho cercato di spiegare no alla grande che se devo andare in profumeria so che a lei non interessa mentre interessa a sua sorella che ha un olfatto chirurgico per le nuance per per le nuance delle fragranze ma se devo andare per libri preferisco andarci con lei con la grande perché conosco il suo talento persino nel leggere trasversalmente un libro come fosse una consumata lettrice a vent'anni non è che ha letto tantissimo tanto ma non tantissimo lei però è in grado di sentire che aria tira in un libro quindi in libreria vado con il fiuto dell'una e in profumeria vado con il fiuto dell'altro quindi forse bisognerebbe proprio un po pensare che ogni figlio è diverso ed è preferito a seconda delle occasioni in questo modo si valorizzano le loro attitudini e le loro differenze grazie avete ascoltato un episodio di alla radice delle dipendenze affettive un podcast della psicanalista laura pigozzi segui il podcast e i nuovi episodi scrivi a laura pigozzi tutte le informazioni in www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it